Buongiorno Vincenzo Longo dalla sala operativa di G di Milano. Timidi rialzi sui mercati finanziari europei nonostante l'ottima chiusura di ieri sera di Wall Street. Il Dow Jones ha terminato al ridosso dei 17.500 punti, nuovo massimo da inizio anno, così come ha fatto anche l'SP500 che si è fermato a 2.040 punti. Tutti i mercati sono stati ostaggio del biglietto verde, il cui violento depreciamento, dopo una Fed particolarmente accomodante, ha contagiato sia il comparto Forex, Equity, Commodities e Bond. Proprio la miglior performance delle borse statunitense rispetto a quelle europee potrebbe essere stata favorita dalla debolezza del biglietto verde. Questa mattina il cambio euro-dollaro si è tornato a riposizionarsi in area 1.12 dopo essersi spinto ieri sino a 1.1340, nuovi massimi che non si vedevano da febbraio. L'atteggiamento accomodante della Fed ha favorito anche le valute emergenti e le commodity currencies. Da segnalare il forte apprezzamento del rublo che questa mattina ha toccato i massimi contro dollaro che non si vedevano dall'inizio dicembre grazie anche al forte rialzo del petrolio. Tra l'altro proprio il recupero del greggio prosegue questa mattina con il WTI che ha messo nel mirino i 41 dollari al barile. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata e buon trading.